Sì, sì, sono io. Come hai detto? Perché la polizia ha fatto domande sul nostro giro? E io cosa ne so? Chiederò gli sbirri, no? Mi hanno scoperto. Devo perdere il tizio che mi ha aiutato. Senti, dobbiamo saltare la prossima fermata. Cosa? Il bersaglio è deviano dal percorso e si dirige verso il punto di raccolta successivo. Non è colpa mia, è impossibile che mi abbiano individuato. Quando l'uomo si rende conto che una tecnologia è a portata di mano, la realizza. Non è colpa mia, è impossibile. Non è colpa mia, è impossibile. Non è colpa mia, è impossibile. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. 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 a tutti.